Anche la tua azienda ha fatture insolute e una lunga fila di debitori? Forse hai chiesto aiuto ai tuoi impiegati amministrativi e commerciali, ma non è il loro lavoro e il rapporto che hanno instaurato con i clienti non gli permette di essere efficaci. O magari ti sei affidato ad aziende e studi legali che si occupano di gestione dei crediti, ma ti sei sentito abbandonato e non seguito come avresti voluto. La maggior parte di quelle aziende, infatti, ti vede come un numero. Ma se tutto questo ti sta facendo credere che il problema sia irrisolvibile, allora dovresti rivolgerti a Marconi Group. Con oltre 30 anni di esperienza e grazie ad un metodo collaudato, siamo in grado di risolvere con esito positivo il 70% dei casi di fatture insolute. Senza neanche arrivare in sede giudiziale, dove le nostre percentuali di vittoria sono ancora più alte. Al contrario delle grandi aziende, ci prendiamo cura del nostro cliente con un trattamento personalizzato, tenendo conto delle sue esigenze e assistendolo in ogni fase. Inoltre, con le nostre indagini potrai decidere in anticipo con quale cliente lavorare ed evitare brutte sorprese a fine mese. Siamo specializzati nel mediare tra le parti e sappiamo arrivare con grande efficacia al risultato finale migliore per te. I costi? A carico del debitore. E se hai bisogno di una risposta in tempi brevi, ti garantiamo l'esito della pratica entro 30 giorni. Sarai tutelato fiscalmente anche in caso di risultato negativo, perché ti forniremo la relazione di credito inesigibile che è deducibile ai sensi di legge. Metteci alla prova, affidati a Marconi Group e scoprirai che quei soldi non sono persi. Clicca qui per ricevere un'analisi gratuita del tuo business. Clicca qui per ricevere un'analisi gratuita del tuo business. Clicca qui per ricevere un'analisi gratuita del tuo business.